Buongiorno a tutti quanti, alle ore 17.51, lunedì 2 ottobre 2023, ci sono 30 gradi, 30 gradi, siamo ancora in estate, siamo in ottobre estate Tanto questo caldo ci porterà la compagnia fino alla metà di ottobre, come dicono i meteorologici, si spera, ci sentiamo stasera, ciao a tutti, ciao ciao